A Villa Lospigliosi di Pistoia, la CISL Scuola Toscana Nord, sede di Pistoia, ha organizzato un incontro di formazione ed aggiornamento dal titolo Difendere i diritti, ribadire i doveri, rivolto a tutte le RSU, rappresentanza sindacale unitaria e terminali associativi sui nuovi temi del contratto collettivo nazionale del lavoro, contrattazione di istituto ed altri temi inerenti al percorso di formazione. A Pistoia vedremo purtroppo coinvolte una riduzione di tre unità scolastiche per l'anno prossimo, ci preoccupa tanto questa riorganizzazione del territorio perché come ben sappiamo ogni riduzione di unità scolastica porta a sé degli stracci, gli effetti sul personale scolastico. E con le principali complicanze quali sono? Potremmo vedere qualche territorio, qualche periferia, vedersi sottrarre qualche istituzione scolastica, qualche plesso scolastico. A ricaduta le problematiche per gli studenti quali possono essere? Potrebbero essere veramente molto tragiche perché vedere già dei settori, per quello che riguarda anche solo il mondo del tessile che sta affrontando oggi con grande criticità la regione, questa riduzione soprattutto di istituzioni scolastiche potrebbe mettere in difficoltà e pregiudicare quello che è il percorso di formazione, il cosiddetto PCTO, la scuola alternanza scuola lavoro che mette in relazione i ragazzi, gli studenti con il mondo del lavoro. Per i docenti questa riduzione di unità scolastica ci rimetterà di nuovo in ballo quelli che sono gli alunni che noi tanto contestiamo, il numero di alunni per classe e non ci vorremmo augurare che in questa riduzione troveremo più alunni rispetto agli anni precedenti. Che cosa si chiede allo Stato, al Governo? Si chiede una maggiore attenzione, una maggiore flessibilità per quanto riguarda i numeri, CISL scuola già a livello nazionale ci si batte da anni per quanto riguarda di ridurre questo numero effettivo di alunni per classe, quindi se deve essere rideterminato un dimensionamento che sia fatto per l'ennesima volta con serietà riducendo i numeri di alunni per classe e quindi ridare qualità e benessere sia all'insegnante ma anche ai ragazzi.